ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video questo video si chiama video pasticcio video a letto stiamo a letto io pussi ciao e polpetta che sta guardando questo che cavolate che sta guardando federico niki chi è fa vedere niki racconta si senza ciuccio che non si capisce niente che fa niki la banca niente a quale la scuola una banda a quale ho capito che l'uomo di cioccolata mangia davvero le taglia le rompe la cioccolata ecco l'uovo e niki niki e vlad guarda guarda che altro si che gli altri non potevi essere come il tuo fratello che alle nove già dormi amore che hai fatto oggi la tua giornata stamattina ho portato a lavare torre perché ieri era stato molestato da un cane quindi oggi bagnetto e poi di pomeriggio siamo andati a una festa di compleanno di un'amichetta di di mattia io sono distrutta sono proprio cotta non se ne hai fatto niente ragazzi è accompagnato aspetta è accompagnato mattia questa festa e non lei non ha fatto niente si distrutta te che guida dalla macchina sono stanca comunque sono stanca è fine giornata sono stanca sono stanca vuoi andare a dormire amore mi andrò a dormire sono scoppesso ci guardiamo un filmetto io e te a cuore a cuore amore ci guardiamo un filmettino si che vuoi vedere? un film sotto Halloween io so che stiamo vicino a Halloween no Halloween no si io voglio vedere mi hanno consigliato oggi di andare Master and Commander con Russell Crow però mi hanno detto che dura tanto dura più di due ore no capirà noi vediamo i primi dieci minuti ci permettiamo io domani non volevo giocare al playstation però ormai è tardi per giocare io domani so il massaggio il massaggio domani? si domani inizia molto bene la giornata per me amore faccio le cari si ma solamente perché stai stai riprendendo è vero? è vero si perché lei non me le fa mai perché o sto giocando o lei dorme o niente ma che dormo? ma guarda che sei bugiardo ma c'è anche te tre così ciao manca Mattia manca Mattia dove sei? ma si sa fa il bravo bambino che dormi dai calmo eh no perché il cioccio gli hai preso il cioccio ah gli ho schiacciato il cioccio vieni qua da papà vieni dai dai no papà ti dai bacetti vieni eh dai bacetti al figlio ma non all'amore non vuoi i bacetti da papà? amore ancora un altro guarda amore mio non ho mai preso il bello portacci scusa hai a mamma? bacetti a mamma pure mi pensavo perché io a Federico gli do bacetti e a mamma gli faccio altre cose niente mi fa né le carezze né i bacetti niente sta a dormire guarda sta già a dormire sta a chiuso i occhi allora allora no questo tu devi devi dire devi dire la verità devi essere sincero allora quando noi ci mettiamo a letto chi è che si è addormentato per prima? tu chi è che si è addormentato per prima? ma quando ci mettiamo a letto ragazzi ti ho detto la verità io di solito metto a giocare la play a quest'ora e io ti guardo no ma che guardi lei si rigira si copre e fa la notte no non è vero poi che tu dormi dopo di me è un problema tuo cioè non è colpa mia che tu dormi allora io non sto dormendo quando si giochi lo vedi? lo vedi? che io non sto dormendo capito? ma a me è il sonno se fa l'amore me lo dice sei scema sei? con lui di mezzo poi eh ma no no stasera non ce la faccio perché sono andata a correre caffanella e sono stanco vecchio vecchio ma che vecchio san vecchio vecchiaccio domani è venerdì che poi tu stamattina pure hai dormito mentre io stavo portando a lavare Thor che hai dormito? tu ti sei messo a dormire chi ti ha detto? tu ti sei messo a dormire certo ma al 6-7 e mezza per una facca caccare la mattina sì che poi lui dove la fa? dove la fa? si porta qua di fuori fa la pipì e poi lui viene dentro casa va a fare la terrazza e fa la cacca infatti non bisogna non tocca abituarlo non tocca arrivare questo vizio fa la caccare ma ma vedi che quando cresce non è tutta un'altra cosa si abitua a farla fuori capisci che la deve far fuori perché è ancora piccolo ancora piccolo a dire un po' che cosa con lei hai dovuto cambiare di nuovo i croccantini io ho dovuto di nuovo cambiare i croccantini ragazzi oggi vanno andata a lavare sì ci siamo accorti che aveva una macchia sotto sulla pancia vicino alla coscia e io ho detto appunto a sta mia amica che cos'era? e mi ha detto guarda che quella è dermatite è allergia da addio è allergia da croccantini al pollo poi siccome io gli ho detto la marca e siamo andati a fare la ricerca degli ingredienti c'è anche il gran turco e mi ha detto tanti cani sono allergici al gran turco quindi comunque non va bene e quindi io ho dovuto comprare oggi altri croccantini della pro life sensitive all'agnello 10 chili 60 euro ragazzi e questo appunto speriamo che che va meglio cioè che l'allergia gli passa che mi muovi il telefono che l'allergia gli passa e quindi va meglio certo ci sarà altri un altro mesetto e mezzo se non due che la cacca insomma la fa a mod a mod di purè la cacca la fa un po' di purè e va finire oh piano il medanante è stato sui denti eccolo eccoci qua tutti e tre ciao saluta Federico senza ciuccio però eh che non ti si vede il bel sorriso chi ha ciao ciao marameo marameo come si fa marameo fa vedere marameo mamma mia putacchio ma chi mi ha fatto a fai la doccia no basta che sozzo che sta chi ha non si fa non si fa metti il tappo metti il tappo va bene ragazzi noi se andiamo a dormire ma vedi chi è che sozzo anzi anzi noi ci guardiamo qualcosa in televisione oggi ho ricevuto anche un regalo ah si è vero oggi ho ricevuto anche un regalo un paio di archini non so se si vedono con i brilantini no? si con i brilantini carini carini da una mia amica perché io ho fatto i complimenti di un paio di archini eccetera che sono come questi soltanto di argentati e questi sono brunito e color brunito quindi più scuro e io ho fatto appunto i complimenti che erano che erano carini e niente me l'ho regalata grazie grazie ciao ragazzi saluta ciao 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 buonanotte buonanotte marameo 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 Grazie a tutti.